benvenuti in questo tutorial dove vi mostrerò come utilizzare google meet per realizzare una lezione a distanza vi spiegherò tutto passo dopo passo illustrandovi tutte le funzioni per creare una lezione a distanza online ma è il momento di iniziare il primo passo è quello di aprire il vostro browser che sia google chrome o mozilla andate sul simbolo del vostro account sia da google o anche da google classroom e successivamente cliccate su meet comparirà così una finestra dovete cliccare sul più dove indicato dalla freccia rossa partecipa a una riunione o avviala comparirà così una finestra di dialogo che ci chiede di inserire o un codice o il nickname della riunione quindi possiamo mettere ad esempio lezione di prova poi clicchiamo su continua avverrà l'accesso caricamento in corso qui ci chiede di consentire a meet di accedere alla webcam e al microfono andiamo sul lucchetto se avete google chrome e fate consenti si avvierà così la webcam e comparirà l'insegnante come vedete nell'illustrazione da qui è possibile attivare il microfono disattivarlo e attivare la webcam o disattivarla mentre se osservate in alto a destra ci sono tre puntini bianchi che indico con la freccia se ci cliccate sopra comparirà questa finestra con varie voci possiamo attivare i sottotitoli andare su impostazioni e se andiamo su impostazioni compare un'altra finestra dove è possibile settare sia l'audio che il video e dopo aver controllato tutti i vari settaggi dobbiamo cliccare su partecipa alla riunione successivamente comparirà questa finestra dove è possibile copiare il link il codice da comunicare a partecipanti per farli partecipare alla lezione ma potete andare anche su aggiungi e invitare direttamente ai partecipanti o addirittura chiamarli chiudiamo le finestre cliccando sulla x e compare la schermata che vedranno i partecipanti compare così l'insegnante mentre sulla destra troviamo due icone la prima è l'icona della chat che permette di interagire con i partecipanti magari rispondere a varie domande ma abbiamo anche un'altra voce con la scritta persone se ci clicchiamo sopra ovviamente si trovano i partecipanti in questo caso io come esempio ho messo mario rossi un solo partecipante che possiamo contattare anche a livello visivo cliccando sul nome e quindi magari interrogarlo subito sotto troviamo una barra degli strumenti con l'icona del microfono e la webcam che possiamo sempre attivare e disattivare la cornetta rossa per chiudere la riunione e il pulsante presenta ora se ci clicchiamo sopra possiamo scegliere di aprire una finestra o a tutto schermo e vedere magari il nostro desktop e mostrare dei file come ad esempio una presentazione un pdf da condividere con i partecipanti spero che questo breve tutorial sia stato anche chiaro ho cercato di renderlo più chiaro possibile attraverso delle illustrazioni e potresti ricambiare il favore magari iscrivendoti al canale sotto al video trovi il pulsante iscriviti a te non costa nulla ma a me aiuterebbe molto ti ringrazio in anticipo e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti